e la quarta lezione è avere offerte compliant cioè che rispettano le normative fondamentalmente ti risparmia un sacco di notti insonne all'inizio di quest'anno avevamo lanciato abbiamo deciso di lanciare prima dell'arrivo del covid eccetera eccetera un'offerta nel campo del biohacking che cazzo andava da grande andava da grande nella nostra lista è stata una dei lanci migliori cioè non magari dei lanci però delle offerte migliori di sempre a livello di conversione della pagina abbiamo visto cifre pazzesche e abbiamo detto cazzo ho creato una pagina di vendita che è una figata pazzesca dobbiamo scalarla su facebook l'abbiamo iniziata a mettere su facebook e andava da grande ho detto cazzo stanno arrivando un sacco di clienti abbiamo fatto bingo qua poi cosa è successo? è successo che ci hanno bannato l'account ok boom ci hanno bannato l'account quindi immaginate no? l'onda emotiva cazzo stiamo vendendo stiamo vendendo bam boom ok abbiamo ripreso ok abbiamo imparato i nostri errori adesso ci siamo ci siamo ci siamo bannati un'altra volta e poi adesso cazzo veramente iniziava a salire un po' di stress addosso facciamo un'altra volta dai cazzo ce la facciamo andiamo ban di nuovo terzo ban quello è stato veramente uno stress incredibile e non solo stress perché ragazzi immaginate siamo stati bannati due volte tre volte ok adesso con quale tipo di sicurezza vuoi andare avanti a continuare a sponsorizzare questa offerta ancora una volta è collegato a quello che vi ho detto prima cioè un'attività online comunque ha dei costi ha dei costi fissi ha dei collaboratori da pagare abbiamo delle persone da pagare eccetera eccetera se noi ci affidiamo un'offerta che il giorno dopo per ragioni in questo caso reali quindi non solo errori di facebook ma proprio per ragioni reali perché non è ben compliant non è ben vista questa offerta perché c'ha dei claim a cui facebook non piace eccetera 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 allora veramente cioè inizia a stare male cazzo perché c'hai cioè praticamente la tua attività si basa su qualcosa sull'umore di una persona che va a controllare la tua offerta ed è terribile quindi il mio grosso suggerimento ragazzi è va bene avere delle offerte che non siano compliant quindi non siano compliant non siano compliant no perché praticamente non è andata avanti però dell'offerta è borderline in cui magari sbagliando una promessa o sbagliando una storia o spingendo nel nostro caso era più noi citavamo degli articoli giornali addirittura facebook non voleva che noi citassimo degli articoli giornali che citassimo dei personaggi famosi che applicavano tecniche che noi spiegavamo non voleva che parlavamo di aumentare il cui non voleva che noi facciamo delle domande è possibile diventare super umani perché poteva sembrare sensazionalistico adesso lo so l'ho imparato non faccio più queste cose però comunque ci sono un sacco di finezze diciamo e questo rendono quell'offerta molto borderline ok quindi è vero con la giusta abilità riesci a farla andare però basta un non nulla per essere bannato e prendere le botte di facebook e questo ti porta alla conclusione che questa non è una buona offerta a sponsorizzare perché? perché se basta veramente una parola per farvi bannare allora cazzo non ti dà certezze, non ti dà basi e il giorno dopo è possibile che tu devi ripartire da zero ma come fai a creare un'attività così? quindi scegliete delle offerte andate a lavorare in delle nicchie che non hanno questi problemi e rispettate le normative di facebook, di google o qualunque altra piattaforma su cui mandate del traffico e alle volte è difficile perché se voi siete nella medicina alternativa se voi siete anche nel fitness è difficile fare attività nel fitness ma almeno è più semplice rispetto per esempio a biohacking o nicchie di questo tipo quindi scegliete delle offerte in cui potete essere tranquilli o non tanto tranquilli ma diciamo sicuri di quello che scrivete ok? quindi imparate bene le normative siate sicuri di quello che scrivete e scrivete per quell'offerta quelle devono essere la vostra offerta di base poi offerte più borderline devono essere secondarie anche se ormai non ve le consiglio noi questa offerta di biohacking veramente la stiamo spingendo con un filo di gas perché non ha senso ci stiamo concentrando su delle offerte che hanno solidità che si fanno dormire tranquilli la notte grazie a tutti grazie a tutti